Stop! Stop! Non c'è niente a vedere! Qui non c'è nessun gioco! Siete ancora qui? Forse c'è un gioco, non so come definirlo Vi ricordate nel lontano 2015? Ho giocato a There Is No Game È stata un'esperienza, molto strana e molto interessante Adesso è uscito There Is No Game 2, praticamente E già nel menu mi dice quando deve selezionare la lingua Se riesci a leggere questo, allora lascia il programma Non c'è niente a vedere! Ma noi cercheremo di scoprire il mistero che alleggia attorno a questo non gioco Partiamo subito! Ok, io lo so che c'è un gioco! Io lo so! Un non gioco by Draw Me A Pixel Col supporto di TNC There Is No Game Non cliccare su Start Mannaggia! Io ho cliccato su Start! Qui non c'è nessun gioco Da questa parte Opzioni inutili Io voglio le opzioni inutili Mamma mia però Una cosa non c'è davvero E quella è la lingua italiana Non riesco a trovarla, mannaggia Vabbè ragazzi, dai Proviamo ad entrare in quella porta che dice Da questa parte Secondo me mi fanno uscire Quit, no! Non voglio uscire! Ma dai! Quindi qua è per uscire E mi costringe in tutti i modi ad uscire dal gioco Ma io voglio andare nel non gioco E qui dice che non c'è nessun gioco Quindi clicchiamo qui e vediamo che succede C'è qualcosa di importante secondo me dietro questo sipario Proviamo ad aprirlo Ok, capitolo 1 Oh Ragazzi C'è qualcosa che posso fare qui? Posso togliere le viti? Sono io! Sì, sono io, Gabby! Allora Ah, devo sempre aspettarti? Non ci vediamo dal 2015, sai Pezzente Dai, metti il tuo titolo Ok Non panico Ah! There is no game! Ciao Non l'avevo capito Come? Come la scorsa volta? Ah sì, il Covid e tutte queste cose Senti L'ultima volta Ha funzionato togliendo la no di no game Magari posso romperla Sto cercando un modo per entrare Non rompermi le scatole che voglio entrare qui dentro Oh Sì, lo sto rompendo Devo, devo rimuoverla Devo, devo trovare un modo per tagliare Sì, sì Gliela rompo tutta Gliela rompo tutta No, vabbè, questo è diventato Sì È diventato Arcoid Come si chiama? Anor Vabbè, quello, Pimple Dai, dai, dai Te lo rompo tutto Te lo grifo Ti grifo al gioco Sono un grifo Sono un grifo Bella l'idea Bene, bene Bravo, bravo E adesso gli rompo tutto Mi sta rosicando Pong? Scandi saga? Non lo so Forse un po' di halo Sì Glielo rotto Glielo rotto il tuo gioco Grazie, grazie Eh, mi dispiace Ma è colpa tua Che mi fai curiosità Vabbè Me l'ho fatto indistruttibile No No, no, no Guarda qua Te lo rompo qui Aspetta, aspetta No, no, no Te lo posso rompere in qualche modo Non l'hai reso resistente Sì Voglio giocare Cos'è un rochambo? Si mangia? Non mi interessa Ah Bravo Mi hai dato la Ho capito Ho capito Userò Userò la forbice Per rompere qui Prendo forbice Così rompo lì No Ma l'hai incollato Sei Sei un cheater Allora ti prendo con la carta Dai, ma stai citando Ah Sì Praticamente ho usato la sua forbice Sì Bene, bene Così ti sta bene Brutto infame Oh, oh Non è giusto Non è giusto Eh, questo Questo è citare Ah, dammi questo Che glielo rompo con questo Ci deve essere un modo Ci deve essere Esatto Hai detto gioco? Hai detto gioco? Adesso io continuo A spaccare tutto Sta scendendo Adesso ti muto Ora ti muto Bravo No Scusami So che non respiri Però Non posso lasciarti andare Vivo e libero Tu mi stai impedendo Di giocare il gioco Che ho pagato Con i miei soldi Silenzio Il puntatore Usò il puntatore Perfetto Ok Siamo ad un buon punto Per non giocare Al non gioco Scusi Battle of Duty Battle of Duty Ma che gioco è Battle of Duty Adesso posso però Usare questo qui Per aprire Vedi Ah Posso scoprire il meccanismo segreto Scusa ma voglio vedere cosa c'è qui dietro È molto interessante Fammi vedere Ah C'è nel pulsante play Non sono il benvenuto qui? Fammi vedere se c'è una chiave da queste parti Voglio vedere Fammi vedere Fammi vedere Oh Disegnami una Goat Draw me a cog Ah i titoli che aveva utilizzato prima Forse una chiave da queste parti Dai Apri C'è una Sì 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 Sto cercando di entrare con il cursore del mouse Ah Ha messo la chiave sotto il tappeto Grazie Cosa? Però forse posso usare questa chiave per di qua Dato che abbiamo visto i lucchetti Vedi E posso utilizzare per aprire questo lucchetto e fargli cadere tutto Oh poveri francesi Mi dispiace I'm so sorry per martoriare la vostra lingua E magari uso il francese per entrare Ah Ottimo Devo utilizzarli in qualche modo Devo unirle Sono messo sotto la porta Ah ho capito Ho capito Sì Gli ho ripreso la chiave Gli ho fatto cadere la chiave con il puntatore del mouse Adesso aprirò la porta Vedrò cosa c'è là dietro Usiamo Sì Finalmente Sì Voglio premere il pulsante Ok No Troverò un modo per entrare anche qui Mannaggia Cos'hai fatto? Sì Sì Non dire così C'è di avere un modo Oh L'ingranaggio Ma certo Devo tirarlo ancora più fuori Fammi vedere Devo mettere questo ingranaggio qui Benissimo Però mi sa che devo trovare un altro più piccolo Dove lo trovo? Un altro ingranaggio Aspetta 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 È più veloce Sì Rompiamo la RAM del gioco Andiamo velocissimi Così il tizio rosica E magari mi dà un ing... Eccolo qua Sì 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 Ok Perfetto Ho fatto saturare la RAM Sì Sì Ti ho rubato delle robe della memoria Ok Ora dovrebbe andare Vai 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 Sì Sì Che bello No è troppo bello sto gioco È stra divertente Ok Dove andiamo? Ehi Mi gira la testa Sei crashato di nuovo Mamma mia Peggio del mio Windows 10 È una bugia Anche io Non mi... Ho pagato 19 euro sto gioco 9 euro Però era in sconto Però non importa L'ho pagato Mamma mia però È un gioco... Siamo nel 2020 È così lento? Perché? Ehi Ma sto andando indietro Ma che gioco hai creato? Ma che cavolo fai? No 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 Adesso lo faccio caricare No Lo voglio far caricare con la forza Aspetta così Ehi Voglio far caricare più veloci Ti sto dando una mano No Non mi arrenderò fin Che non giocherò il mio gioco L'ho pagato E lo voglio giocare Quindi Cosa devo che fare? Credi che questi Trucchi da scammer Funzionino con me Non credo proprio Il programma Ha un problema Riavvia il computer Ma se riavvio Perdo il video Quel cavolo Ah Ok Perfetto Bello però Non mi sembra Non mi sembra Vedo che tutto funziona bene La proibita Voglio vedere che c'è qui dentro Che mi nascondi? Non mi dire che mi hai fotografato Senza il mio consenso Eh Cioè non voglio che i miei iscritti Vi danno le foto dove mi scaccolo il naso Mentre non registro Ok Vediamo se riesco a trovare magari la chiave Secondo me l'ha nascosta Dobbiamo trovare un modo per entrare nella cartella proibita Vediamo un po' che foto ci sono Acqua più sole uguale pianta Ok Non guardo la tv da tempo Quindi no grazie No Secondo me devo fare qualcosa con le foto che ho trovato Ah Sì Un cavatappi Vediamo qua che c'è Uno zaro uno zaro uno zaro Che messaggio stai cercando di dirmi Non riesco a capire il macchinese Musica Sentiamo un po' di musica Oh Bella questa C'è Kosky Cambiamo musica Ok Ah Secondo me questa musica è quella giusta Per la foto dove devo far crescere la pianta Vediamo Vedi Sì La musica della pioggia Ah Lo scogliattolo per darmi la chiave Ha bisogno di una nut Di una nocciola Dov'è una nocciola Dai Magari con i cavatappi posso comunque aprire il cestino Esatto Il peggiore gioco di pimpa Poi qui c'è scritto addio Gioco ti devo lasciare addio GG Cosa vuol dire Vediamo intanto questo gioco di pimpa Che ha buttato via No era quello che avevo su Windows XP Vi ricordate quel gioco di pimpa Infatti fa schifo perché non ci posso giocare con niente A meno che non trovo una palla Ah eccola qua Perfetto Perfetto Facciamo un po' di punti Perfetto Allora non è così male Oh Eh allora tanto è un gioco vecchio Che Basta Alte remata Dai Mi stavo divertendo No così non va bene Aspetta Ho trovato il modo Faccio punti infiniti Sto citando Sto citando Sto citando La la lero La 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 Eccomi qua Gabi decidi Grazie per la coppa Era questa che volevo Esatto Oh Questa me la metto qua E diventerà mia d'ora in poi Ah va bene Abbiamo fatto un sacco di punti E la coppa per cosa posso usarla? Ho trovato il modo Per annaffiare le piante Ok 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 Uh è stato veloce Ottimo Allora dammi le minoci Ah grazie mille Perfetto Ce l'abbiamo fatta E ora dammi la chiave Ah devo rompertela Dov'è finito il cavatappi? Dov'è finito il mio cavatappi? Quando serve? Come lo rompo? Devo usare zin whip? Magari lo trovo qui da qualche parte Forse con Ah questo è il cavatappi Sì Ok L'ho trovato Lo schiaccianoci ovviamente La musica lo schiaccianoci Geniale Ottimo Ottimo Ora posso entrare nella cartella proibita Come? La chiave è troppo grande No ci deve essere un modo per rimpicciolirla Ah l'ho trovata L'ho trovata con un windzip L'ho rimpicciolita con quello Ottimo Apriti Ancora troppo Più piccola Ora dovrebbe andare Sì Sì E dai Voglio vedere Dai Voglio vedere cosa c'è La cartella proibita Sono troppo curioso Lo sapevo che non c'era un gioco Lo sapevo che non c'era un gioco Fermi 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 Fermo Sì L'ho preso Sì Mi piace quando rosicano Sono molto sadico Eh vedi E invece ce l'ho fatta Invece ce l'ho fatta Adesso succederà un casino Ti rispedisco nel BIOS Nel DOS Ti ho dossato Ti ho dissato e dossato Che c'è? Ma sono finito in Arabia Abbiamo cambiato gioco Ehm There is no game in arabo Ah Namaste Ok Come? Ma un altro Ma questo è un persiano Ma questo è un persiano Aiuto Ok No è indiano Ah Vedi Siete tutti uguali qui Questa è la versione Tipo Indiana Del non gioco Dai Dobbiamo fare qualcosa Dobbiamo andarcene di qui Mamma mia Non razzisti È un po' razzista sto gioco Si è Si è buggato Cosa devo fare? No 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 Oh Chi è questo? È Mr. Grinch Voglio vedere No vabbè sto creando un casino E mi piace Proviamo a cliccare glitch L'ho cliccato Si sto rompendo il gioco Non sto glitchando No 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 Ah I glitch I peggiori nemici Dei giochi Vedete Se non fosse Un gioco Questo Non si glitcherebbe Ma siccome un gioco Si sta glitchando E si sta rompendo Quindi la mia teoria Era esatta Questo è Un gioco Addio Adesso siamo nella madre russia Eh questa volta si Siamo tutti qui Ci sono 40.000 lingue qua che è Oh è tornato Mr. Glitch Quindi ottimo 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 Rompiamo tutto Rompiamo tutto Di nuovo con Mr. Glitch Che magari finalmente Riuscirò Finalmente Troverò Il modo Per trovare il gioco Ok Veramente Carinissimo Cioè Siamo in quello Ok Siamo in quello francese Mr. Glitch Ti prego portami fuori Di qui Mr. Glitch Grazie Mr. Glitch Grazie Mr. Glitch Grazie Mr. Glitch Venga qui Non ascolti Guarda pure lui si mangia le baguette Pure Mr. Glitch si mangia le baguette Sì E ve lo meritate Ok Adesso dove andiamo In Giappone Ok Konnichiwa 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 Ottimo Mi piace che ha fatto Ogni gioco Per ogni versione Della lingua Vabbè dai Scusami 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 signor giapponese Amo molto il Giappone Ma Questo momento Divido di morte Devo rompere tutto Dobbiamo uscire di qui Konnichiwa Vabbè Quello romano Ok Stiamo andando indietro nel tempo Ragazzi Stiamo andando indietro nel tempo Dove stiamo andando Stiamo andando nel futuro Ma quanti versioni di questo gioco ci sono Oh È pazzurdo Ma E niente Schermo nero Ragazzi Ehm Sapete una cosa Credo che ho fatto crashare tutto Sta arrivando uno schermo Ma la sapete una cosa Mi serve del tempo per pensare Questo non gioco è molto pericoloso E molto strano Quindi per adesso Anche perché devo tradurvi tutto io Mi fermo qui Ma se volete aiutarmi Magari traducetemi questo gioco Se c'è qualcuno di voi Che sa tradurre i giochi Traducetemelo così Posso portarvi altri episodi In fretta E possiamo giocarlo assieme Perché mi sembra veramente Una bella serie Fatemi sapere quindi Cosa ne pensate nei commenti E se qualcuno di voi Magari si può proporre Al game developer Per tradurre il gioco E dare una mano Perché secondo me Merita una versione italiana E niente Vi ricordo il link Del mio negozio In descrizione E noi ci vediamo Al prossimo Non episodio Del non gioco Ciao ragazzi Ciao ragazzi